Sì, però ti dirò che poi quando finisce il male, non è male. È come quando mi strappa il dente a Gigi Redder. Il dolore, il dolore e poi la pace. Quelle mani. Quelle mani. È come quando mi strappa il dente a Gigi Redder. È un patch di Slayer. È un patch di Slayer. È un'altra delle mie miei preferite. Slayer? Sì? Quindi ti piace il dente, il Sean O'Merci? È buono, non? Seasons in the Abyss, sì. È buono, sì. È un'altra cosa. Non si chiama il Raining Block. C'è una persona che vende, prende la tua. Non c'è l'altra, ragazzi. Non c'è l'altra, ragazzi. Tá, ragazzi. Ed. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, I mean, I know this guy that you don't know much about comics, right? I know nothing about comics, but there's a comic store right across the street. So maybe we should just buy some and get... One of my brothers loves... Loves... Spider-Man or... Oh, look at that car. Superman. Superman, I think it's DC Comics. Decent? No, DC. DC, ah. You know, they were like too big, like... Of course. It's like Motown Records and Stocks Records. You know, they were doing something similar. Okay, okay. Let's cross illegally, please. That's how people cross in Portugal. And Italy, too. You're photoshopped? You're not. You're not. You're not. You're not. You're not. You're not. L'anno scorso mi ha fatto andare. Andrà bene anche quest'anno. Sì, perché me l'avevo fatta io da solo. C'era voi i capelli, li ho scontornati, sono venuti male. Se volete... E allora mi sono arresta, scusate. E questo chi è? Fammi leggere un po' la gazza, va. E questo chi è il calcio per il calcio? No. E cioè... Rozza. No. Oh, rava. È riconoscente. Sì, è rozzanese. Dragon Ball, probabilmente you know it. Dragon Ball, right. Dragon Ball, I was stopping motion, the video and the drawing, and selling the draws. Really? To friends or... I was doing prints of it. I started to try to break in the American market. You say, I'm going to LA for three months. Yeah. I'm going to LA to study. I was studying there at Norman School. That is one of the biggest schools in the industry, you know? Was it expensive, the school? No, actually, it was really cheap. It was like $500 for three months each course. I took like four, three, four courses. All right, so nothing too crazy, right? When I was in school, I received a call from my friend saying... He read in the newspaper something like, oh, this will be a guy. He's saying here that he will be a guy from Marvel. And I was like calling a guy that I had never heard before. Matt, yeah? Yeah, and he was like, yeah, he's going to be. I'm Jean-Lem. Jean-Lem is with other three artists. We're the first guys working for Marvel, Portuguese guys. Wow. And I was like, yeah, but you have one hour to show your portfolio to him. And I was, I'm living in the other side of the river. So I was like... And I was like, yeah, I can hear you. And I was like, oh, you can get another great song. And I want to get you guys and start today. So you're like, oh, I can get this one hour to show your 앞으로. And you could just see how your skill is by your life. So I'm like, oh, you're about to show your stuff. No, you're not seeing problems. Yeah, I'm coming to go. I love arthritico. And now, you know what? I love Rh steak. E tu hai un scritto, certo? C'è qualcosa scritto e tu hai bisogno di immaginare? Sì, è qualcosa di così. Questo è il nuovo scritto che ho lavorato su. Quindi diceva, come close up? Diceva, per esempio, page 4 di Onslaught Unleashed, numero 3. Tu hai tutti i eros guardando Onslaught, e poi Nomad si parla con Roger. Ma che ti diceva che ti parla, ma hai bisogno di capire... No, ma ho bisogno di capire dove la camera è. La camera, le expresioni, come le eros guardano. Quindi è molto creativo, certo? Sì, credo che è creativo. Lo che più persone che vogliono avere un lavoro come vostro, mi chiede ora, è se sei riche ora? O è un po' tempo? È veramente... Io ho lavorato solo per un anno e un po' E ovviamente ho lavorato molto bene, ma il punto di lavorare per i comici è che hai bisogno di lavorare per quanto riguarda il tuo progetto che hai bisogno di lavorare. Per esempio, io conosco che ho lavorato fino a novembre, ma dopo... Tu non lo sai. Or I could be the one who gives it all up And moves back to the parents' house Live in the basement, baby And that's okay At least I've got options All the things you'll see And the places you'll go Wants it to be Wants it to be Wait, do people say ciao when they live? Yes, they do. And we also say chinchino Yeah, chinchino, I don't think that's Italian, to be honest with you. Penso che è francese. Questa è Rua do Embaixador. Quindi cosa pensi? Ho il numero 3. No. 3? Oh, quindi siamo un lungo. È in quella direzione. Questo è 69. Si, è qui. Oh, è qui. È qui. Noi. Non ho mai capito. Sì? Sì. Ciao, Niki. Nice to meet you. Quando fai la partita live, spieghi in Portugale o hai anche in Angola? No, in Angola penso che sia difficile per noi spiegare, perché le lettere e i contenuti. Abbiamo troppo social e realistico. Non diria che sia politico, sia politico come conseguenza. Ma in Angola se stai dicendo cosa sta succedendo, ma in Angola si stai dicendo politico. Quindi, la nostra musica è politica là. Quindi, è difficile andare là. Solo se noi organizziamo la concertazione. E questo, magari, succederà un giorno. Quando hai giocato in Africa, hai parlato della barriera lingua. Hai pensi che potrebbero avere una barriera di colori? Hai pensi che i blacki di Africa potrebbero avere una pregiudizia per i africani? E anche, come si stai dicendo che ci sono anche più bambini. Quindi, magari è più bambino per l'Europa, magari è più bambino per l'Africa. Bazzucca! 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 Questo è un rottino. È come un sketch che è stato fatto a un concerto recento. Certo. Abbiamo in Francia, in un festival fantastico che si chiama Transmusical. La reazione della crowd e di tutti, mi ha pensato che potremmo che potremmo fare una track finalizzata. È ancora finito, ma ancora si stai dicendo. Si sai av Che 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 4 di abril 4 di abril 4 di abril 5 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 di abril